amici di pmg sport futsal ben trovati e buon pomeriggio dal pala volkan 10 reale buon pomeriggio per metà catania brico city contro todis lido di ostia attenzione a messina doppio passo rientra attenzione già la gioca corta attenzione a barra che vede a cutrupi che ha provato il colpo sotto interviene enrico ricordi affrontato da beisel si sposta sul sinistro e il palo clamoroso calcio d'angolo affidato a di franco tocca corto ancora barra di franco e solo per un momento cutrupi non riesce a metterla dentro porta il contropiene ceccolo tutta solo vola via in tayros prova cioè con le interviene rossetti poi ancora che in tayros venanzio attenzione attenzione a esposito ricordi riesce a chiudere 11 e 58 da giocare rossetti fuori musumeci affronta chilelli rientra il destro il tocco a gol thomas boisel la meta catania la sblocca così l'urlo della meta catania la sblocca thomas boisel 1 a 0 per la formazione rossa azzurra grande occasione per la formazione maglia bianca brecchi di quintai rosso che va via dal gol mariano quintai rosso la meta raddoppia e 2 a 0 della meta catania brico city la transizione perfetta da parte di mariano quintai rossa formazione di ostia attenzione cecco si tromette poi di ponto non riesce per ora la meta è chiusa bene centralmente ancora rossetti prova a girarsi rossetti la meta catania brico city triplica il portiere di movimento porta sguarnita italo rossetti di giustezza con il destro ha trovato il colpo perfetto per il 3 a 0 della meta catania brico city rimane con l'uomo in più ostia prova a ritornare sotto messina tutto solo giovanni messina la mente nel set e il 4 a 0 della meta catania brico city che adesso sta mettendo il sigillo sulla partita perfetta attenzione alla conclusione ricordi c'è ancora molta è il muro di carmelo musumeci firma i primi tre punti in campionato e vince per 4 a 0 vittoria secca in questo secondo tempo perfetto per la meta catania è tutto per la diretta di pmg sport meta catania brico city batte todis lido di ostia per 4 a 0 sì 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 sì